si apre la terza pagina dedicata ai paesaggi alla reggia di veneria protagonista william tarner si uno dei grandi pittori romantici inglesi dopo la mostra un'infinita bellezza il paesaggio in italia la pittura romantica dopo constable lo scorso anno che arrivava già dalla tate di londra quest'anno tarner tarner è forse il più celebre dei paesaggisti inglesi noto per questa sua natura dove si parla della poetica del sublime perché una natura con mari in tempesta cieli offuscati da nuvole che quindi incude il timore dell'uomo ma qui abbiamo scelto una specificità la curatrice ann leilis della tate ha scelto il tema della mitologia tema che non era mai stato studiato ma che molto presente in un tarner che ha studiato la royal academy of finance che è un londinese colto intelligentissimo che viene in italia che viene a torino e la mostra mette veramente a confronto i suoi schizzi fatti a palazzo reale nel centro di torino con i paesaggi che arrivano poi fino a napoli roma i paesaggi di cuma e di mitologia e natura di grande cultura di grande bellezza ok